Sindaco, se è contrario non lo dica ai giornali, faccia atti ufficiali. Parole espresse su cartelloni come questo che hanno accolto l'inaugurazione del nuovo comune di Vallefoglia sabato mattina e a mostrarle in bella vista a tutte le autorità presenti per l'occasione c'erano alcuni dei 5.000 passa firmatari contrari alla realizzazione del biodigestore di Talacchio. Sotto l'occhio del ciclone sono finite le parole pronunciate dal sindaco di Vallefoglia che neanche una settimana fa ha annunciato attraverso un comunicato la contrarietà alla costruzione dell'impianto da 105.000 tonnellate di rifiuti. Un no arrivato a due anni di distanza dall'individuazione del terreno agricolo di Talacchio in grado di sostenere l'estensione della struttura di circa 40.000 metri quadri. Noi prendiamo atto che dopo due anni di silenzio il sindaco e la giunta abbiano espresso contrarietà. Lo hanno fatto semplicemente con un comunicato stampa e una lettera mentre noi ci aspettiamo degli atti ufficiali che vengano presentati all'interno del procedimento perché all'interno del procedimento in realtà Vallefoglia il sindaco non ha mai presentato alcuna documentazione di contrarietà essendo autorità sanitaria potreva invece sollevare le questioni sulla salute pubblica così come sugli aspetti urbanistici e su quelli ambientali. In questo comunicato il sindaco poneva l'attenzione sulla convenienza economica non è questo l'aspetto per noi rilevante ed importante era chiaro che era un affare ed era chiaro che venisse fatto per quello mentre noi da due anni diciamo che ci sono dei forti rischi, rischi potenziali per la salute degli abitanti, per il territorio e per l'ambiente. Queste sono le ragioni per le quali noi continuiamo ad essere contrari e soprattutto ci aspettiamo da parte di chi ci amministra che non faccia valutazioni economiche ma faccia valutazioni per la tutela del territorio e della salute dei cittadini. Il sindaco dice di non aver mai detto di essere a favore, è vero, non l'ha mai detto, ha fatto di più ha fatto insieme alla sua giunta una serie di azioni per facilitare la realizzazione dell'opera attraverso varianti urbanistiche, attraverso la variante sulle case rurali sparse attraverso il fatto che è scomparsa una norma tecnica di attuazione che avrebbe impedito la realizzazione di un'industria insalubre di prima classe quindi non è necessario manifestare la propria volontà a volte e spesso i fatti contano molto di più. T. Viroli ha già dichiarato agli organi di stampa che entro il mese di gennaio otterrà l'autorizzazione, quindi nella prossima conferenza dei servizi che dovrebbe essere quella conclusiva, lui pensa di ottenere questa autorizzazione quindi un esito favorevole al termine della conferenza. Noi chiediamo che l'opposizione che oggi il sindaco dice di manifestare o comunque ha dichiarato di essere contrario venga portata all'interno della conferenza dei servizi è lì che deve essere fatta opposizione è lì che si può fare opposizione è lì che si deve impedire che venga realizzato il digestore. Voi continuerete a manifestare la vostra contrarietà in che modo? Noi continueremo a manifestare la contrarietà informando i cittadini continueremo a vigilare su tutto quello che avviene sull'operato del sindaco che oggi ha dichiarato la sua contrarietà perché noi riteniamo quest'opera un'opera che non serve per la gestione dei rifiuti sovradimensionata e potenzialmente pericolosa per i cittadini, per la salute e per l'ambiente.